Yo sono CNT e sono appena tornato dalla Spagna e vi ho lasciato per troppo tempo senza analisi, senza video quindi oggi andiamo subito ad analizzare oggi andiamo ad analizzare Bitcoin e Ripple Bitcoin perché è il mio benchmark per tutte le crypto Ripple perché avevo già aperto alcune posizioni di trading che vi avevo già messo in video precedenti quindi vi voglio spiegare una particolarità su Ripple di come io eseguo i miei trade e di come funziona un grafico e in particolar modo il triangle pattern che probabilmente voi lo conoscete però voglio andarvi a spiegare come io lo tradeo e come funziona per me prima di tutto andiamo su BTC, su Bitcoin vi ho messo qua il grafico delle 4 ore come l'ultima volta nell'ultimo video vi avevo fatto delle analisi non voglio essere troppo ripetitivo quindi secondo me è un'idea, un consiglio è meglio andare a vedere l'analisi che ho fatto la scorsa volta quindi il video precedente e poi guardare questo video allora io cosa vi avevo detto? nel 4 ore noi siamo nel bearish side non confondetelo perché io nel daily chart in long term penso che siamo ancora bullish infatti avevo detto che sarebbe iniziato il quarto wave sono cose che già ho detto se non capite magari andate a vedere i video precedenti e cominciate un po' a capire ormai sono abbastanza ripetitivo mi sembra quindi cosa avevo detto? sarebbe arrivato un ABC, giusto? che per me è questo ABC di questo tipo ognuno poi ha le sue interpretazioni basta che funzionano, giusto? siamo qui per tradeare basta che funzionano per me l'ABC è arrivato in questa maniera e vi avevo detto che in questo punto non avrei shortato avevo detto che mi serviva il second downside e questo ABC e poi siamo risaliti in questa maniera qua ho shortato ve l'avevo detto che per me doveva scendere almeno almeno a 57.000 ancora non ci siamo ci siamo, stiamo andando vicino queste erano tutte le mie interpretazioni quindi potevo benissimo sbagliare cercate sempre di estrapolare quello che dico quindi per me era una conferma di quello che sarebbe successo proprio volevo un rebound più o meno a questi livelli pensavo 60.000 pensavo che sarebbe sceso fino a 60.000 rebound e avevo detto che per me questo era 100% short non ho detto che sarebbe diventato 100% short ma ho detto che per me era un 100% short ve l'ho messo proprio nel video precedente no bullshit e quindi sono entrato in short e il mio price target è 57.000 half e 55.000 l'altro ovviamente poi andrà a vedere come si muove qua perché se vedo che ormai il downside sta finendo e ormai è troppo debole non aspetto che scende fino a 55.000 non sono pazzo se qua vedo che cominciano a entrare i buyers e fa questo tipo di movimento non sto qua a aspettare vabbè aspetto che scenda a 55.000 ok? quindi ogni volta poi c'è l'interpretazione in sé quindi è short poi vi dico per me perché è stata una conferma in più perché è stata una conferma in più per me cos'è assoluto? il volume ve lo dico sempre volume volume always quindi andiamo a vedere un attimo questo candlestick in particolare ci troviamo in questo punto e possiamo vedere che siamo saliti di volume e siamo saliti come dovrebbe succedere? la candela subito dopo è un bearish candle enorme che ha fatto in pratica un engulfing e il volume è anche più basso questo cosa significa? i short sellers sono in dominio in questo caso sono per forza in dominio andiamo a vedere un attimo questo punto guardate qua questo volume è più alto short sellers un pelino più basso però cosa è successo qua? non c'è un engulfing significa che i short sellers sono ancora deboli significa che vogliamo salire in alto guardate da tutte le parti vedete qua volume alto alto poi ci sono altri volumi un po' più bassi cerchiamo di scendere però vedete che non è un engulfing bar se non sapete che è un engulfing bar andate a vedere gli altri video che ho messo perché ve l'ho spiegato comunque non importa andiamo a vedere qua sono entrato in short su questa candela da manuale e ho aspettato che toccasse il mio price target 57 poi perché questa era anche un'altra conferma perché comunque è stato il mio diciamo qua ha incontrato questa resistenza facile da vedere e ho aspettato ve l'ho detto nel 4 ore siamo bearish quindi stiamo andando a completare questo più grande più grande ABC ABC a 57 almeno il primo target e poi è da vedere comunque comunque nel daily sono sempre bullish giusto? perché noi nel daily stiamo andando a vedere questo tipo di movimento 1 2 3 4 5 to the moon in questa maniera questo è l'andamento in grande comunque ho fatto un po' di ripetizione perché sono stato assente per un po' di tempo quindi magari vi siete dimenticati quello che vi avevo detto andiamo a vedere un attimo su ripple ci troviamo in questa situazione vi volevo spiegare il tipo di day trade che io eseguo e come io trado in pratica non so se avete visto il mio day trading sul su ripple in questo giorno vi avevo detto che qua c'era un triangolo e avevo in verità ero entrato tipo in questo punto neanche ho aspettato che spaccasse il triangolo perché a me non mi interessa se lo spacca o no mi interessa già quello che è successo precedentemente cosa significa? risparcare questo secondo me è 50-50 l'importante è vedere come ci è arrivato quindi possiamo vedere questo grafico non so se vi devo mettere 4 ore o l'1 ora per capire meglio ok io riesco a vederlo però voglio che lo vediate in modo più facile dai si vi lascio le 4 ore allora è qua ci troviamo in questo punto quindi ABCDE abbiamo spaccato e siamo saliti cosa è successo in questo punto? guardate il volume il volume ci troviamo in questo punto è sceso giusto? siamo scesi e poi con un'entrada di volume siamo riusciti a spaccare questo è come funziona un triangle classic da manuale bullish eravamo già in basso siamo saliti triangolo consolidamento e poi siamo saliti però io voglio voglio per forza questo tipo di volume non voglio che i short side siano più alti andiamo a vedere questo triangolo molto più grande ora ve lo segno riuscite a vedere questo non è un bullish triangle ma per me è un smashing the door cosa significa smashing the door? spaccare la porta ti bustano alla porta e te lo spaccano come? fate finta che questa è la porta e qua in short seller boom 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 ammartellate smashing alla fine ce la fanno ma perché è diverso da questo che smash the door verso qua sotto? è questione di volume è per quello che per me il volume è assoluto infatti andiamo a vedere un attimo il volume questo è troppo alto andiamo a vedere un attimo il volume vedete come c'è entrato qua dentro? il volume è questo come c'è entrato ma tutte le discese come sta avvenendo? come stanno avvenendo tutte le discese? con un volume molto più alto volume alto volume alto volume alto cioè guardate qua addirittura un volume altissimo addirittura è riuscito anche se per un momento a spaccare questa porta questo non è un bullish triangle anche qua vedete questo fake triangolo spacca qua dice ok ora siamo bullish va così bullshit se c'è qualcuno che ha detto sta cosa ha sparato una vabbè non dicevo parolacce e quindi cosa succede quando cercano di fare questa smash the door? il volume non è non è questo non è questo tipo di volume ma in mezzo possiamo vedere che c'è molto vedete? vabbè qua ormai l'ha spaccato quindi era ovvio era palese che avrebbe fatto così l'ultimo non lo contate perché questa è già è una cosa che è successo comunque non voglio un tipo di volume così andiamo a vedere quello precedente da manuale giusto? easy vi volevo spiegare un attimo come faccio il mio trading rispetto al volume e come dovete vedere come ci arriva il pattern in sé non mi rappresenta nulla non mi rappresenta nulla spero di essere stato chiaro e niente se volete altre analisi su altre crypto o su non lo so se avete domande chiedete però per bitcoin mi sembra di essere stato chiarissimo su quali erano le mie posizioni e ci vediamo col prossimo video